Torna il prossimo 26-27 agosto a Ponte Buriano la festa dell'antica battitura organizzata come ogni anno dalla Cric, una realtà che esiste dal 1977 grazie al dottor Mario Luccherini. Proprio grazie ad una sua idea nello stesso anno nacque appunto la rievocazione storica della battitura. Il paese dunque alle porte della città di Arezzo il cui panorama è stato preso in prestito, si fa per dire persino da Leonardo da Vinci per la sua gioconda, vivrà uno dei suoi momenti più tradizionali. Per tutte e tre le giornate anche il museo Leonardo e l'Arettino inaugurato qualche settimana fa rimarrà aperto dalle 16 alle 19 e sarà altrimenti visitabile sempre su prenotazione. Al suo interno una sala interattiva dove poter ammirare la bellezza del Ponte della Gioconda e gli studi del professor Carlo Starnazzi che ha dedicato una vita intera a Leonardo e alla sua presenza nel territorio aretino.